Prenditi cura di me verso la finale del primo reality dedicato al benessere psicofisico. Concorrenti trasformati, selezionata la rosa dei possibili vincitori del format, ideato da Massimiliano Gaudino interamente girato al Caravaggio Sporting Village di Napoli e che vede schierati quattro giudici, lo stesso Gaudino, Francesco Pappadia per il fitness, Dionisio Margherita per la nutrizione e Rosanna Vigorito che ha aperto le porte del Caravaggio per un nuovo progetto tv che mette insieme e per la prima volta il benessere di mente e corpo. Abbiamo fatto bene a crederci, sono stata felice che la televisione abbia abbracciato questo progetto, la persona che ho qui a fianco è l'ideatore di questo format che ha stravolto un po' non solo la vita dei concorrenti ma anche la vita di ognuno di noi, anche se la stanchezza molte volte ha fatto traspirare emozioni che volevamo tenere nascosti e che forse abbiamo fatto meglio a tirare fuori, quindi evviva la stanchezza, evviva il reality e evviva credere che si può fare sempre di meglio e in virtù di questo sono certa che non resterà un reality isolato ma stiamo già studiando a come farlo e a come migliorarlo per occhi futuri, per menti più aperte, per emozioni più libere. E si lavora il futuro del reality tv che è riuscito a trasformare tutti i concorrenti ma non solo. È stato un modo per conoscersi e riconoscersi tra gli altri, gli altri significativi che in questo caso può essere l'amicizia e il rispetto che abbiamo verso tutti voi e anche i concorrenti. Mi è piaciuto molto la trasformazione anche di quella che è stata la nostra immagine. Ricordo che all'inizio Rosanna non voleva molto comparire, disse che voleva esserci solo nelle prime puntate e poi nell'ultima. Invece anche lei si è resa conto che probabilmente al di là della telecamera potevamo andare dei messaggi importanti che vanno al di là della psicoterapia, del fitness o della nutrizione. Quindi forse questo è il successo che ci ha premiati.